Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria. La seduta dell'Assemblea Legislativa, tenutasi martedì 13 aprile, è stata articolata in due sessioni, la prima dedicata esclusivamente all'attività scolastica nell'emergenza sanitaria da Covid-19, mentre nella seconda sessione sono state discusse mozioni relative ad altre tematiche attuali. Rispetto all'attività scolastica in tempo di Covid, l'Aula ha approvato una proposta di risoluzione unitaria sulla riapertura delle scuole e dell'università in sicurezza e con la dovuta attenzione alle tematiche contenute in cinque differenti mozioni presentate in apertura di seduta. Il voto è stato pressoché unanime, vista la sola astensione dell'assessore ai trasporti Enrico Melasecche, perché non illinea su alcune previsioni riguardante il settore di sua competenza. Si tratta sostanzialmente della sintesi di cinque diverse mozioni, una promossa dai gruppi della maggioranza e quattro da parte dei gruppi di opposizione. Sin dalla presentazione degli atti è emerso l'intento di giungere a un unico testo funzionale ad ottimizzare la riapertura delle scuole in sicurezza e con attenzione a dettagli riguardanti il diritto allo studio, i diritti degli alunni con disabilità, il sostegno agli studenti con ISEE basso, la sicurezza degli operatori e il sistema dei trasporti. Particolarmente articolato il dibattito in aula ad apertura del quale l'assessore Paola Gabiti ha rimarcato come siano state molteplici le iniziative attuate dalla Giunta nell'ambito dell'istruzione e del diritto allo studio. A fronte di complessivi 62 milioni impiegati nel quadriennio 2016-2019, solo nel 2020, ha detto l'assessore, la regione ha stanziato 41 milioni e mezzo di euro da risorse proprie dal Fondo Sociale Europeo. Quindi massima è stata l'attenzione, ha detto di questa amministrazione, nei confronti di bambini e ragazzi e delle loro famiglie. È necessaria un'analisi mirata alla progettazione che porti al ritorno della normalità. Le scelte fatte sono state difficili, ma abbiamo sempre interagito, ha assicurato l'assessore a Gabiti, coordinandoci con il Comitato Tecnico Scientifico e con le istituzioni sanitarie. Siamo stati sempre in prima linea, ha detto, e pronti ad individuare gli strumenti necessari per la didattica a distanza e in presenza, prevedendo molteplici misure di sostegno per ogni fascia di età. Nel sottolineare come la regione abbia avuto confronti con tutte le componenti del sistema scuola, ma anche con il mondo delle rappresentanze sindacali, l'assessore a Gabiti ha assicurato che grazie al piano scuola fase 3, protocollo tempo zero, viene garantita una puntuale individuazione dei positivi e il tempestivo tracciamento entro 24 ore dei contatti scolastici ed extrascolastici. Sui trasporti continua l'attività di coordinamento sui tavoli istituiti dal Governo presso le Prefetture al fine di coniugare la ripresa dell'attività didattica in presenza. L'Assemblea di Palazzo Cesaroni ha approvato una mozione unitaria sottoscritta da tutti i gruppi consigliari che declina in otto punti interventi di sostegno richiesti dai rappresentanti degli operatori della somministrazione di bevande e alimenti espressi durante un incontro avuto nel corso di una programmata sospensione della seduta. L'atto di indirizzo rappresenta il punto di approdo che il Presidente dell'Assemblea Legislativa, Marco Squarta, aveva auspicato durante l'incontro mattutino con i capigruppo consigliari. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità dei presenti la mozione della Lega, affirma Paola Fioroni, Stefano Pastorelli, Daniele Carissimi, Daniele Nicchi e Eugenio Rondini, inerente azioni volte al contrasto e alla prevenzione del fenomeno dell'abuso sui minori e in particolare delle forme più attuali di pedofilia e pedopornografia. L'atto è stato emendato, su proposta del consigliere Tommaso Bori, capogruppo del Partito Democratico, inserendo la collaborazione con enti locali e aziende sanitarie. Illustrando l'atto in Aula, Paola Fioroni ha rimarcato come con la pandemia si sia verificato un aumento dei dati legati all'abuso sui minori. La mozione impegna dunque la Giunta a prevedere tra l'altro tavoli di confronto istituzionale e consolidare così una politica di rete di collaborazione stretta fra le istituzioni, le associazioni a tutela dei minori, il garante per l'infanzia, l'università, le forze dell'ordine, gli istituti scolastici e l'ufficio scolastico regionale per progetti e interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione anche attraverso campagne web sui siti istituzionali e regionali. Bocciata, con otto voti favorevoli della minoranza e otto contrari della maggioranza, la mozione di Simona Meloni e Donatella Porsi del Partito Democratico per il sostegno al mondo dello sport in Umbria. Illustrando l'atto in Aula, Meloni ha spiegato che negli scorsi giorni alcune attività sportive sono state autorizzate a riprendere, ma molte associazioni sportive prevedono di dover ridurre le proprie attività e anche il numero di collaboratori. Il contraccolpo, anche per l'Umbria, rischia di essere pesante, ha detto Meloni, si sono ridotte le iscrizioni, le sponsorizzazioni e anche gli incassi legati agli eventi. Tutto ciò, mentre restano invece le utenze da pagare per gli impianti, a fronte dell'impegno di molti volontari che dedicano tempo e risorse alle società sportive. La giunta, attraverso l'assessore Paola Gabiti, si è detta contraria alla mozione, alla luce del fatto di aver già previsto importanti sostegni per il settore, verso i lavoratori dello sport, la riqualificazione dell'impiantistica sportiva e il sostegno alle associazioni dilettantistiche. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha deciso, con voto unanime, su proposta del capogruppo della Lega Stefano Pastorelli, sulla quale si sono detti d'accordo i proponenti Andrea Fora, patto civico per l'Umbria, e Tommaso Bori, partito democratico, il rinvio in commissione di una mozione che mira ad impegnare la giunta all'attivazione di un gruppo di lavoro, Perugia Obiettivo 2027, che veda attori la Regione, il Comune di Perugia, la Camera di Commercio, l'Università di Perugia, l'Università per gli stranieri, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la Provincia di Perugia e i sindacati. L'obiettivo è quello di focalizzare modelli di sviluppo, obiettivi e azioni da mettere in campo per il rilancio economico e sociale, come modello di riferimento per rilanciare una stagione di programmazione partecipata, policentrica e condivisa. È tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'ente nazionale sordi, Consiglio regionale dell'Umbria.